Procedo e concludo quindi la terza parte con quello che ho già citato, il Digital Services Package, cioè l'intervento di quegli ACT che sono in materia di servizi digitali, che sono sostanzialmente due, quelli già approvati e uno che è in fase di approvazione, che è quello sull'intelligenza artificiale, e sono, vedete, il Digital Markets Act di EMA e il Digital Services Act di ESA. Quindi fortemente evoluti la Commissione von der Leyen, cioè sono stati approvati con una speditezza inconsueta rispetto ad altri ACT che sono lì latenti da un paio d'anni in bozza, e invece questi sono stati approvati nel giro di circa sei mesi, e vedete, ok, sono stati approvati al Parlamento Europeo in via definitiva il 5 luglio, e entreranno in vigore uno sei mesi dopo, e quindi è già entrato in vigore, quindi, ah sì scusate perché prima c'è il Parlamento Europeo e poi c'è un secondo giro, un'ulteriore approvazione da parte del Consiglio dell'Unione Europea, e quindi l'ultima approvazione per il DMA, per il Digital Markets Act, è 18 luglio, in vigore sei mesi dopo, quindi è entrato in vigore qualche settimana fa sostanzialmente. L'altro invece, così vi do le date, è stato approvato definitivamente il 5 ottobre, in vigore sei mesi dopo, quindi fra poco. Dicevamo, scusate, il DMA è una legge europea sui servizi digitali, si concentra sulla creazione di un ambiente online più sicuro per gli utenti e per le imprese digitali, sulla protezione dei diritti fondamentali nello spazio digitale. Vi lascio poi scoprire se volete leggere i vari punti, diciamo, contenuti. L'altro, il Digital Services Act, invece, è una legge europea sui servizi digitali che mira ad innovare il contesto regolatorio per garantire che gli utenti digitali abbiano accesso a prodotti sicuri e proteggere i diritti fondamentali degli utenti e consentire una concorrenza libera e leale nei settori digitali per stimolare l'innovazione e la crescita. Anche qua vi lascio andare nel dettaglio autonomamente, e poi vi faccio vedere velocemente questo, perché è quello, diciamo, che sicuramente è più intrigante, perché va su questo tema dell'intelligenza artificiale, che è super, super attuale, ma non è ancora, non abbiamo ancora trovato una bozza definitiva e quindi è ancora in fase di discussione. Vi segnalo solamente che non parla tanto di, ad esempio, di quell'aspetto che dicevo prima della proprietà intellettuale sui prodotti creati, sulle opere creati dall'intelligenza artificiale, ma si preoccupa più che altro della responsabilità legale di ciò che viene fatto dall'intelligenza artificiale, cioè, detto anche in termini molto concreti, se arriveremo ad avere le automobili a guida autonoma, se una di queste automobili fa un incidente, di chi è la responsabilità? Di colui che ha messo in moto l'auto, di colui che gestisce il software che fa funzionare l'auto, del produttore che ha fatto funzionare l'auto, di quello che ha fatto la strada e non l'ha resa adeguata per le auto autonome e via dicendo. Il problema è più che altro quello del attribuire o meno una responsabilità per ciò che viene fatto da sistemi automatizzati di intelligenza artificiale. Basta. Chiusa questa panoramica di testi normativi e ci rimane una parte finale sull'open data, ma se avete delle osservazioni adesso facciamole. Grazie. Grazie.